Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo Wild Lapse. Nella puntata di oggi vedremo come disegnare un ghepardo ed insieme vedremo le caratteristiche di questo felino pazzesco, ma prima un piccolo spot. Questo video è sponsorizzato dal mio primo libro, Artifici Naturali, un viaggio nel mondo dell'illustrazione naturalistica digitale, disponibile per l'acquisto nel link in descrizione. Nel libro troverai questa tigre, ma anche questo pipistrello e questo leopardo e scoprirai la storia di questo gufo. Ed il perché l'Elasmoterio aveva un corno così grosso. E magari anche che cos'era un Elasmoterio. Artifici Naturali, disponibile da adesso. Maggiori informazioni esclusive scrivendoti a newsletter gratuita. Prenota subito la tua copia. Buona visione. Allora, partiamo a bomba con il lineart. Il lineart, per chi non lo sapesse, è quella sorta di linea guida che appunto si traccia sul foglio per decidere le forme e i volumi del soggetto che stiamo disegnando. Ecco, io tendenzialmente la uso proprio come una linea guida. Di solito non la lascio mai a opera finita. Primo perché mi piace mantenere uno stile più pittorico e uno stile più vicino poi a quelle che sono le superfici e i tegumenti che sono tipici dell'animale che sto raffigurando. In questo caso, nel ghepardo, il lineart sarà sostituito da tutti quanti i peli che compongono i peli di contorno dell'animale. Se stessi facendo un animale che ha la superficie liscia, come per esempio un rettile, un anfibio o un pesce, probabilmente userei dei giochi di luce per quanto riguarda il contorno dell'animale e terrei comunque il lineart cancellato, comunque invisibile. Ora parliamo un po' della forma della testa del ghepardo. Il ghepardo ha una testa piuttosto piccola rispetto alle proporzioni del corpo. Ha una testa un po' che sembra una scatoletta, un po' squadrata. È piccola appunto per non appesantire il corpo durante la corsa e soprattutto si sviluppa più in altezza che in lunghezza. Se noi pensiamo alla testa di un leone, la testa del leone è piuttosto tubolare, si sviluppa abbastanza in lunghezza, non quanto quella di un canide però abbastanza. Questa del ghepardo invece è molto più corta e si sviluppa molto più in altezza. Questo perché? Perché il ghepardo ha bisogno di una testa piccola e non ha bisogno di un muso particolarmente lungo. Un muso particolarmente lungo appesantisce poi quella che è la testa. La cosa che colpisce del cranio del ghepardo della testa del ghepardo è la sua enorme cavità nasale. Questa enorme cavità nasale gli permette di respirare un sacco di aria utile per appunto correre velocemente come può correre solo lui. Questo enorme naso però comporta degli assestamenti strutturali e del cranio molto particolari. Infatti per esempio i canini del ghepardo sono piuttosto piccoli rispetto alla sua mole. Questo perché? Perché i canini, avendo una cavità nasale così importante, così preponderante, le radici dei canini si sono dovute fare più piccole e quindi il dente canino stesso più piccolo per far spazio a questa enorme cavità nasale. Questo però non ha inficiato né la sua potenza di morso. Infatti alcuni studi hanno confermato che nonostante il ghepardo abbia comunque una bocca piccola rispetto alla sua mole e dei canini piccoli rispetto alla sua mole, per un riassestamento di quelle che sono le leve, i muscoli e la fisica delle mascelle del ghepardo, il suo morso è comunque abbastanza potente. Molto interessante qui è l'espressione facciale che ho deciso di dare a questo ghepardo. Come vedete ha la bocca semiaperta. Perché questo? Perché questo ghepardo sta boccheggiando per il caldo. Ecco, i felidi non sudano come noi, come noi esseri umani e per raffreddarsi fanno un po' come i cani tendenzialmente, soprattutto i grandi felidi. A parte il fatto di utilizzare l'ombra, ok, questo è sicuramente un modo di raffreddarsi molto efficace, però quando fa molto caldo, l'aria è molto calda, c'è afa, i felidi fondamentalmente boccheggiano, quindi ansimano. In particolare fisicamente quello che succede è che la loro lingua fa un movimento avanti e indietro come se fosse un po' una pompetta. Quello muovendosi avanti e indietro la loro lingua permette all'aria di entrare nella bocca e andando poi all'aria a contatto con le mucose permette poi il raffreddamento dell'animale e soprattutto la traspirazione dell'animale. È proprio per questo che molti felidi, soprattutto i grandi felidi che vivono in habitat caldi come l'Africa e l'Asia tropicale, vengono spesso raffigurati o più che altro vengono spesso visti in materiale fotografico o documentari con la bocca semiaperta, appunto perché stanno ansimando per il caldo, si stanno rinfrescando e si stanno traspirando per poter raffreddare il proprio corpo. In particolar modo l'espressione con la bocca semiaperta è un'espressione molto tipica sia dei leoni che delle tigri, ma spesso si vede anche nei ghepardi. Uno dei segni distintivi più famosi e più riconoscibili del muso del ghepardo sono sicuramente quelle due strie scure che scendono a modi lacrime dalla parte, appunto, lacrimale dell'occhio e arrivano fino all'angolo della bocca. A cosa servono queste due strie scure? Ecco, fanno la stessa funzione che hanno i nostri occhiali da sole. Mi spiego meglio. Fondamentalmente il ghepardo vive tendenzialmente in spazi aperti. Spazi aperti in cui il sole è molto caldo, è molto presente sia durante la giornata sia durante l'anno e soprattutto spesso è anche battente. Ecco, queste strie scure permettono ai raggi del sole, quindi alla luce del sole, di essere assorbita e di essere allontanata dagli occhi, in modo tale che appunto da non venire abbagliati dalla luce e dal riverbero del sole. La cosa interessante è che le popolazioni nomadi che vivevano in Africa, per esempio, credo che fossero i Tuareg o qualche altra popolazione dell'Africa del Sahara, insomma, qualche popolazione nomade, utilizzava lo stesso tipo di espediente. Fondamentalmente, credo che fosse utilizzato anche dai nomadi asiatici. Fondamentalmente queste persone, durante i loro viaggi sotto il sole, si cospargevano la parte sotto agli occhi con una polvere scura ottenuta dal carbone vegetale. Questa polvere si chiamava kajal, che funzionava un po' come una specie di eyeliner, e appunto serviva a queste persone per non venire accecate dalla luce solare, che appunto nei luoghi dove vivevano era particolarmente forte durante i loro lunghi viaggi. Le due lacrime scure ai fianchi del muso non sono però l'unico espediente che il ghepardo, o meglio l'evoluzione, ha trovato per il ghepardo per non essere accecato dai raggi del sole forte. Come possiamo vedere dal disegno che ho fatto, fondamentalmente gli occhi del ghepardo è come se fossero in ombra. Ecco, nei grandi felini, nel ghepardo in particolare, ma è una cosa che si può riscontrare anche in altri grandi felini, come per esempio i leoni, le sopracciglia, i muscoli sopra l'occhio, che corrisponderebbero al nostro sopracciglio, i muscoli frontali, sono particolarmente sviluppati. Questi muscoli è come se facessero, se venissero fuori e sporgessero un po' come se fosse una tettoia, e sono ricoperti di peli piuttosto lunghi. Ecco, la combinazione di questi muscoli sporgenti con dei peli piuttosto lunghi è come se facessero una tettoia che scherma ulteriormente gli occhi dai raggi solari, quindi fondamentalmente gli occhi spesso, quando soprattutto il sole è forte, come in questo disegno, sono oscurati, la pupilla non si vede, e si vede l'ultimo pezzettino in basso, l'ultima fascia dell'iride, appunto perché c'è questa ombra che scherma gli occhi dalla luce forte del sole e funge un po' come occhiali da sole anch'essa. Come molti altri felini, anche il ghepardo sotto gli occhi ha una fascia di colore chiaro bianco crema. Ecco, questa fascia ha sempre una funzione nel miglioramento della visione, però per quanto riguarda la visione notturna, ma di questo per non dilungarmi ne parlerò in un altro episodio. Come abbiamo visto, ho cominciato a disegnare qualche pelo sul muso del ghepardo. Molto spesso, quando uno si approccia al disegno degli animali, il disegno naturalistico e soprattutto dei mammiferi, sorge spontanea una domanda. Ma i peli, devo disegnarli tutti? Ecco, diciamo che dipende. Da cosa? Ecco, innanzitutto dal tipo di pelo e dal tipo di animale che stiamo disegnando. Prendiamo per esempio un antilope. Non tutta quanta l'antilope, ma il muso di un antilope. Ecco, le antilopi sul muso hanno un pelo molto molto rado. In questo caso non ha senso disegnare ogni singolo pelo, non solo perché sono molto corti, quindi molto piccoli, ma perché sono anche tanti. Andremo a perdere tantissimo tempo in una cosa che non è molto produttiva. In questo caso ha molto più senso utilizzare un pennello per dare la giusta texture al pelo mediante un effetto pittorico. Se invece prendiamo per esempio un canide, un orso o, come in questo caso, un fellide, notiamo invece che molte parti del muso e molte parti del corpo hanno invece un pelo più folto, in cui i peli sono molto più visibili e soprattutto sono molto più visibili singolarmente. Ecco, per esempio, in questo caso come si fa? Vorrei tanto dire di no, però in realtà i peli che sono più evidenti vanno disegnati a uno a uno tendenzialmente. Ma c'è un però. Diciamo che bisogna tenere a mente questa regola cum granosalis, ovvero usando la testa. Non bisogna infatti dimenticare che l'arte, anche quella naturalistica, è finzione e come nel cinema si può usare qualche trucchetto. Ecco, per esempio, se l'animale che stiamo raffigurando è molto lontano, è inutile disegnare ogni pelo, ogni singolo pelo. In questo caso non lo disegneremo ovviamente. Ma quali sono altri esempi in cui disegnare ogni singolo pelo è utile o non è utile? Bisogna in questo caso armarci di molta buona osservazione. Se osserviamo bene i musi dei soggetti che stiamo disegnando, notiamo che i peli non sono sempre evidenti, ovunque, ma solo in alcuni punti specifici, ovvero dove questi peli sono più lunghi e dove magari ci sono dei cambi di colore, da una zona più chiara a una zona più scura. Se prendiamo questo ghepardo, per esempio, noteremo che i peli li ho disegnati in corrispondenza di zone con il pelame più lungo, come per esempio le sopracciglia, come per esempio le orecchie, le guance, il mento, i peli di contorno, perché ovviamente quelli vanno fatti perché è il contorno dell'animale, però per esempio in zone dove ci sono peli uniformi, corti, come per esempio la zona sotto l'occhio o la zona lacrimale del muso, oppure anche per esempio le labbra, ecco lì i peli non li ho disegnati perché in quel caso lì non è particolarmente utile farli. Altra zona in cui ho disegnato i peli sono per esempio le zone di transizione da un colore all'altro, per esempio dove c'è la macchia ho disegnato i peli, appunto perché i peli più scuri vanno sul pelame più chiaro, in questo caso si vedono. Viceversa, quando dal pelame più chiaro si passa alla macchia, i peli più chiari passano sulla macchia, in questo caso i peli si vedono e ha senso raffigurarli. Ultima cosa riguardo i peli, poi chiudo la parentesi, tutti quanti i peli degli animali hanno una loro direzione, esattamente come per esempio i nostri capelli che hanno un loro senso, una loro direzione in cui sono tutti quanti orientati. Quelli che vedete in questo disegno per quanto riguarda il gabbardo sono tendenzialmente le direzioni base che sono presenti sulla testa, sul muso, della maggior parte dei felidi. L'unico modo per capire quali sono le varie direzioni, orientamenti dei peli, dei mammiferi che stiamo raffigurando è osservare tantissime tantissime reference, che siano queste foto, che siano queste video, che siano questi animali imbalsamati o tassidermizzati nei musei. Ovviamente se abbiamo disposizione degli animali vivi da poter osservare è sicuramente meglio, ma con il gheppardo è un po' difficile, però bisogna osservare tantissime tantissime reference. Ora, in inglese le macchie delle gheppardo hanno un nome particolarmente azzeccato e particolarmente preciso, si chiamano infatti flex, ovvero lentigini. Questo nome a mio parere descrive perfettamente il tipo di macchia che ha il gheppardo sul suo pelo, ovvero dei punti neri, di forma abbastanza regolare e tondeggiante, distribuiti in modo piuttosto uniforme e piuttosto fitto su tutto quanto il corpo. Le macchie del gheppardo, al contrario di quelle di altri felidi immaculati come per esempio il leopardo e il giaguaro, sono macchie piene, totalmente nere. Il leopardo e il giaguaro hanno invece delle rosette, che sono delle macchie, degli agglomerati di macchie che sono disposti a cerchio, a semicerchio e all'interno hanno delle zone di pelo tendenzialmente un po' più scuro rispetto al colore del pelo base. Però tendenzialmente sono delle macchie fatte da altre macchie disposte a cerchio. Ecco invece la macchia del gheppardo è un punto totalmente pieno, nero o marrone scuro. Sul muso del gheppardo invece le macchie sono piuttosto piccole e concentrate nella zona della testa e della fronte e sulle guance. A parte la caratteristica stria che va dalla coda dell'occhio fino alla guancia, tutto il resto delle macchie del muso del gheppardo sono sia piuttosto piccole sia piuttosto fittamente distribuite rispetto a tutto il resto del corpo. Le macchie del gheppardo sono diverse di esemplare in esemplare, però questo non vuol dire che sono distribuite a caso. Ogni specie di felide ha il suo particolare pattern di macchie o di strie preciso e tipico di quella specie. Tutte le variazioni di disposizione che ci possono essere da individuo a individuo sono da tenere in considerazione rispetto al range appunto di macchie, di strie, di pattern che è tipico di quella specie, ovviamente tranne le aberrazioni genetiche come per esempio il gheppardo reale. Ma anche nel gheppardo reale che presenta un tipo di macchie totalmente diverse rispetto a un gheppardo normale, anche quelle diversità rientrano sempre in uno schema, in un pattern tipico appunto di quella variazione di quella specie. Piccolo quiz, indovinate come si studia il pattern di queste specie? Esatto, ci avete indovinato, guardando tantissime tantissime reference. L'80% del lavoro di un artista e in particolare di un artista naturalista, di un illustratore naturalistico, è quello di osservare in natura, osservare delle reference, delle fotografie, quando non si può osservare il soggetto in natura ovviamente e come in questo caso nella maggior parte delle volte non si può osservare un soggetto in natura, quindi bisogna affidarsi a fotografie, video, esemplari tassidermizzati e fare tantissima tantissima osservazione. In dirittura d'arrivo parliamo un attimo degli ultimi dettagli, ecco sto colorando appunto i denti, i denti della mandibola inferiore, sto facendo le ultime macchie, gli ultimi peli sulla mandibola inferiore e sto facendo i baffi. Il gheppardo ha dei baffi piuttosto particolari perché sono piuttosto corti rispetto a quelli di altri felidi, a baffi detti anche vibrisse. Il fatto che il gheppardo ha delle vibrisse così corte diciamo e rade potrebbe essere dovuto al fatto che il gheppardo è un animale che vive in zone molto aperte e quindi che le vibrisse non gli servono particolarmente come per altri felidi che invece vivono in ambienti più chiusi oppure che sono addirittura arboricoli. Dell'utilizzo e dello scopo delle vibrisse anche nei grandi felidi ne parleremo magari in altri video perché è un argomento molto ma molto ma molto interessante. Ultima cosa, lo sfondo. Ok lo sfondo non ho fatto uno sfondo particolarmente naturale, nel senso che ho fatto questo grigio che potrebbe essere sia un po' uno sfondo del set fotografico perché volevo mettere bene in risalto il soggetto principale che è appunto il gheppardo, però ci ho messo qualche piccolo filo d'erba per dare un tocco di naturalità alla composizione. Questo sfondo sì potrebbe essere quello di un studio fotografico però diciamo che i colori potrebbero evocare quelli di un cielo nuvoloso anche se è un po' una tiratura ecco mi sto arrampicando un po' sugli specchi. Ho completato appunto con la firma, con gli ultimi ritocchi e con il nome dell'animale ed ecco qui il gheppardo. Vi lascio un po' da soli. Ti è piaciuto il video? Fammelo sapere con un bel like o un commento magari in cui mi dici cosa esattamente ti ha colpito di questo disegno. Condividi il video con tutti gli amici appassionati di disegno o di animali o magari di tutti e due e non dimenticarti di iscriverti al canale e attivare la campanella delle notifiche. Per tutti gli appassionati di illustrazione naturalistica è anche disponibile sempre sul mio sito la guida in free download professione wildlife illustrator in cui svelo alcuni trucchi del mio lavoro. Come far ad ottenerla? Inserisci la tua mail nell'apposito box e scarica la tua copia della guida. Ti ringrazio molto di essere arrivato fino qui e spero che il video ti sia piaciuto. E mi raccomando se il sole picchiaforte non sottovalutare il potere delle macchine re sotto gli occhi. Come il nostro amico riparto. Grazie a tutti.